è stato veramente veramente stupendo e ancora non ci credo ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi è lunedì e quindi vuol dire che sono ritornata con un altro music monday in questo video come vedete dal titolo parlerò di Beyoncé e Jay-Z il motivo per cui ho deciso di parlare di queste due persone è perché due settimane fa sono andata al concerto di Beyoncé e Jay-Z gratis vi spiego un attimo com'è andata perché alcune persone mi hanno chiesto come hai fatto ad andare gratis? come hai fatto ad andare gratis? e la cosa che mi fa ridere è il fatto che io a luglio sarei dovuta venire a Milano a vedere il concerto, stavo già preparando ci stavo pensando su da tantissimo tempo volevo prendere il biglietto un sacco di tempo fa appena sono usciti i biglietti però ho deciso di non prenderli perché stavo cambiando comunque la mia situazione lavorativa e quindi non sapevo se potevo prendere ferie e cose del genere però alla fine è andata come doveva andare e alla fine sono riuscita lo stesso a vederli e praticamente nel mio ufficio c'è un ragazzo che sta facendo un tirocinio dei suoi amici e suo fratello lavorano nel campo della musica e quindi hanno delle connessioni con artisti molto 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 famosi adesso non voglio dire troppo perché molto spesso viene invitato a concerti quando vengono qua a Londra adesso tipo domani una cosa del genere va a Barcellona per vedere un altro artista non voglio dire troppo però viene invitato molto spesso a tutti questi concerti gratuitamente quel venerdì quando sono andata a vedere Beyoncé io avevo una presentazione da fare a lavoro molto molto presto iniziava tipo alle 9 e mezza e io solitamente inizio a lavorare alle 9 e mezza solamente che siccome era una presentazione grande dovevo entrare in ufficio presto prima delle 9 e mezza per comunque preparare la stanza e tutto no? allora sono arrivata in ufficio alle 8 e siccome io sono ancora nuova ho chiesto a questo ragazzo che sta facendo il tirocinio se poteva venire anche lui presto per comunque aiutarmi con il setup e niente quindi sono uscita dall'ufficio con questo ragazzo e di solito noi andiamo andiamo cioè tipo usciamo dall'ufficio io vado ad una stazione e lui va ad un'altra stazione perché comunque non vive vicino a me però questa volta questo venerdì abbiamo deciso di andare alla stessa stazione e prendere la stessa metropolitana perché lui stava andando da qualche parte e non mi ricordo quindi eravamo lì seduti a parlare e gli arriva un messaggio da un suo amico dicendo ho due biglietti in più vorresti venire al concerto di Beyoncé e Jay-Z lui si gira mi guarda e mi fa un mio amico mi ha appena detto che ha due biglietti vuoi venire al concerto? e io stai scherzando vero? non giochi con i miei sentimenti così non fai così stai scherzando mi fa no no sono serio vuoi venire o no? e gli faccio certo che voglio venire stiamo scherzando certo che voglio venire lui allora risponde al suo amico dicendo ok stiamo arrivando allora poi vabbè ha confermato sta cosa e io gli faccio no vabbè sono vestita tutta cioè formale non voglio andare al concerto di Beyoncé quando tutti saranno tutti carini belli e io sono lì tipo vestita da lavoro quindi faccio torno a casa e poi mi cambio cioè faccio la doccia mi cambio mi rinfresco un attimino e poi ti vengo ad incontrare direttamente al London Stadium che è a Stratford torno a casa ovviamente io ho le chiavi di casa e tutto cerco di aprire la porta e siccome noi abbiamo due serrature io avevo solamente la chiave per una per una serratura e quindi ero chiusa fuori quindi vabbè chiamo mia mamma dicendo dove stai dove stai devo entrare assolutissimamente in casa devo cambiarmi devo uscire sto andando al concerto di Beyoncé e mia mamma sta tornando dal lavoro e mi fa eh sto tornando a casa dal lavoro c'è un po' di traffico aspettami aspettami quindi ragazzi io sono rimasta fuori di casa per un'ora quando il mio amico mi stava aspettando a Stratford con i biglietti e io ero lì continuavo a scriverli dicendo non so cosa fare non so cosa fare panico totale perché ad un certo punto vi dico la verità che stavo per dire I'm not going non ce la farò mai ad arrivare lì prima delle delle otto non ce la farò mai alla fine poi mia mamma è arrivata tutta tranquilla addirittura era andata a fare la spesa vabbè dettagli genitori africani sono entrata mi sono indocciata subito mi sono praticamente buttata un testito addosso mi sono truccata velocissimamente e sono uscita in quel periodo non avevo internet sul mio telefono e quindi un casino assurdo stavo cercando di fare lo hotspot con il mio telefono di lavoro un casino assurdo poi il mio telefono di lavoro si è scaricato non avevo niente praticamente non avevo internet e non sapevo neanche come arrivare a London Stadium perché non sapevo quanto fosse distante dalla stazione e avevo paura che il mio telefono si scaricasse perché era tipo al 50% di solito io per se tipo non so dove sto andando esattamente so il nome del posto però non so come arrivarci io uso il mio telefono però ovviamente non avevo internet sul telefono quindi sono andata alla stazione sono andata tipo agli uffici dove si fanno i biglietti e gli ho chiesto come faccio ad arrivare a questo stadio c'era questo tipo giamaicano che ci stava provando e comunque mi stava chiedendo il mio numero della serie che è uscito fuori ha preso questa mappa e mi ha fatto vedere dove dovevo andare di qua e di là poi sento un treno che sta arrivando e io gli dico ma questo è il mio treno che devo prendere io e lui mi fa sì 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 quindi inizio a correre e quando vi dico che sono arrivata tipo alla platform e il treno mi ha passato davanti così e ho detto wow I really fucked up I really fucked up you know sono stata lì alla platform per un sacco di tempo e poi questo tipo giamaicano è sceso e mi fa ciao quindi mi dai il tuo numero o no e gli faccio sentire mi ha appena fatto perdere il treno quindi forse per colpa tua non riesco a vedere Beyonce e Jay-Z sono arrivata alla stazione è venuto a prendermi alla stazione abbiamo iniziato a camminare verso lo stadio e mi ha dato il biglietto apparentemente se avessi pagato per questo biglietto costava 160 sterline c'erano un sacco di celebrities dietro di noi che io siccome non guardo televisione inglese non ne ho idea però apparentemente eravamo circondati da celebrities però è stato stupendo è stato veramente veramente stupendo e ancora non ci credo ragazzi io sono ancora esaltata I'm still basé non ci credo ancora adesso non voglio dire troppo perché so che alcuni di voi andanno al concerto alcuni di voi che sono in Italia andanno al concerto e quindi non voglio spoilerare niente però ragazzi preparatevi perché questi due sono dei pazzi hanno annunciato che c'è fuori un album nuovo in questo video in questo video voglio parlare del nuovo album l'album è composto da nove canzoni quindi è stato di fare 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 ci sono scusate ma sta rappando beyonce sei tu stai rappando no, no, no no, 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 no